Oggi ci troviamo in Via Meraviglie, siamo nella sede di Generalitalia, ho il piacere di intervistare il Chief Marketing and Distribution Officer della compagnia, il dottor Stefano Gentili. La prima domanda che le farei è la seguente. Siamo entrati in questo anno 2018, quindi abbiamo completato, e devo dire anche in maniera egregia, ma ce lo dirà lei a breve, il 2017, con quelli che sono stati anche una serie di eventi e di roadshow che la compagnia ha portato avanti. Se lei ad oggi dovesse tirare le somme di questo 2017, che cosa ci potrebbe dire? Il 2017 è stato un anno molto importante per noi, perché è stato l'anno della digitalizzazione, della semplificazione e i primi strumenti operativi di semplificazione sono arrivati alle agenzie. Però al di là di questo, la cosa fondamentale è che poi guardando i numeri, i numeri sono andati molto bene, quindi complessivamente il bilancio della compagnia generale d'Italia è un buon bilancio e questo per noi è molto importante. Il roadshow è una delle cose fondamentali che facciamo sostanzialmente con una certa frequenza, diciamo tutti gli anni, per esempio nel 2017 ne abbiamo fatti due, per mettere in condizione la nostra rete di dare il massimo. Il roadshow a cui fa riferimento lei è quello di fine anno, quello di settembre, in cui abbiamo raccontato alla nostra rete in dieci tappe, una per area commerciale più una specifica per la Sardegna, dei nuovi strumenti a loro disposizione per la fine dell'anno e quindi abbiamo lanciato il prodotto genera valore, abbiamo rilanciato il prodotto per i ragazzi domani di generale Italia e abbiamo rilanciato il PIR, il genera crescita, il prodotto a sostegno diciamo delle piccole e medie aziende italiane e ovviamente abbiamo lanciato tutte le iniziative commerciali della fine anno. Devo dire che l'accoglienza è stata molto molto buona e lo noti anche quando incontri, noi incontriamo tutta la rete degli agenti più una buona parte della rete dei nostri consulenti, quindi parliamo di circa 5.000 persone, l'accoglienza lo noti diciamo dal calore con cui ti ricevono ma soprattutto poi si riflette nei risultati, come dicevo i risultati sono stati molto molto buoni. Abbiamo fatto anche un roadshow a febbraio in cui abbiamo lanciato Genere Equilibrio, il prodotto che ha aperto questa nuova gamma di prodotti ibridi ed è stato un vero successo perché Genere Equilibrio ha fatto da solo più di un miliardo e mezzo ma sostanzialmente quest'anno la nostra raccolta ibridi è stata davvero davvero straordinaria. Prevedete o comunque prevede anche in questo 2018 eventi quindi il roadshow da qui fino alla fine dell'anno? Per noi è fondamentale incontrare la rete dei nostri consulenti, quindi eventi se ne fanno sempre, diciamo che il nostro tentativo è quello sempre di dare qualche novità negli eventi e quindi per esempio il 2018 partirà con un roadshow a febbraio con una modalità un po' diversa dal solito perché invece di essere 10 tappe, una per area commerciale, le tappe saranno una settantina, una per ogni zona commerciale con protagonisti questa volta gli area manager e i manager di zona e quindi con incontri molto più capillari sul territorio. Invece nella seconda parte dell'anno, presumibilmente intorno a settembre, faremo probabilmente un grande evento unico, quindi una convention in cui incontreremo, non abbiamo ancora capito diciamo con che formula, stiamo studiando le varie formule, ma incontreremo tutta la rete in un'occasione unica. Diciamo che in generale è una compagnia sempre in forte espansione e investe tantissimo in quelle che sono le proprie risorse umane. Per i nuovi, diciamo, i neoconsulenti che comunque intraprenderanno anche quest'anno all'interno della compagnia, quindi diciamo per i neoinseritili, quale consiglio potrebbe dare? Ma visto che è accennato alla formazione, un consiglio che do a tutte le persone che incontro, che abbiano 20 anni o che ne abbiano 60, è che la formazione è fondamentale. Il fatto di continuare a imparare è fondamentale, è una delle cose che tra l'altro mantiene giovani, quindi anche molto piacevole secondo me. Io ricordo sempre che uno dei miei primi capi in un'azienda che ai tempi era IBM, io ho iniziato in IBM, mi disse una cosa che per me è stata fondamentale ed è stato Stefano, se tu non sei ricco di famiglia, la tua ricchezza è basata su quello che tu sai. Allora, la formazione non è un investimento che l'azienda fa con te, è un investimento che tu fai su te stesso. Se hai la fortuna di lavorare in un'azienda che ti mette a disposizione queste cose, prendile tutte a pieno, ma se per caso non hai questa fortuna, passa un'ora di tempo ogni sera per aggiornarti. Ecco, il consiglio che io do a questi ragazzi che entrano è proprio questo, è di continuare a studiare, continuare a tenersi ad aggiornati e visto che entrano in generale, utilizzare a pieno gli strumenti veramente molto forti che noi oggi abbiamo in termini di formazione e capire, imparare, studiare sempre di più in modo di essere sempre più preparati. Quando una persona è preparata non ha problemi, perché quando una persona è preparata è davvero libera, fa quello che ritiene opportuno fare.